Zio Hack dal 1998 il numero uno del miglioramento personale underground nel mio lavoro e anche nel mio esperimento sociale che vi ho raccontato nel video 9 più 3 qualche cosa che gli è più notissima voglio farvi conoscere cercate sul canale youtube ho fatto appunto un esperimento che raccontavo di apprendimento accelerato della fotografia un esperimento sociale di uscita con varie ragazze carine e un esperimento di ipnosi che poi ho filmato e una delle persone più interessanti che ho incontrato senza nulla togliere alle altre ovviamente è stata Valentina Nappi l'ho incontrata tramite il sito model shoot che poi hanno chiuso tra l'altro prima mi avevano anche mandito non ho mai capito il perché penso si tratti di quella quella antica emozione umana chiamata invidia non lo so comunque su quel portale che è una sorta di social fotografi incontravano modelle fotografi amatoriali e professionisti io ovviamente ero super amatoriale ma avevo molte richieste per il mio stile comunicativo non so come scrivere le cose insomma sono in quel settore dal 98 quindi insomma ecco mi contatta blufa si flora da un paesino di napoli mi manda delle foto del viso che non erano granché però visto da dove arrivava c'è detto vabbè facciamo un'opera di bene dico adesso poi vi spiego tutto state calmi poi mi manda delle foto nudo detto porca miseria che fisico complimenti eccetera ovviamente tutto questo prima che lei incontrasse Rocco prima del porno e prima vedrete dalle immagini sotto che il mio collaboratore storico buon Gianfranco metterà dell'ipnosi delle varie adesso vediamo cosa cosa trova tra i vari scatti perché sono tutti nudi ero un fotografo già allora prevalentemente di nudo se no è cosa comunque ripeto persona molto interessante allora stavolta sono preciso con le date perché giustamente sulla storia di ambra del mio incontro con ambra ho cannato clamorosamente tutto era il venerdì 11 marzo 2011 il suo primo incontro che ho registrato anche in audio adesso poi vedrò come distribuire l'audio se solo ai miei clienti deluxe se ai miei clienti anche di hna o se a tutti magari sul canale dipende dai contenuti sono cinque minuti di introduzione non lo so comunque abbiamo fatto il primo shooting nel mio studio vicino a gallarate mi è piaciuta subito una ragazza intelligente disinibita solare divertente con un grande senso dell'umorismo che a me piace molto nelle persone amante del cibo anche molto raffinato comunque cibo proprio amante del cibo anche al punto che se il cibo non era di buone qualità lei non lo mangiava qualcuno dei miei clienti c'era sicuramente giovanni il mio collaboratore che mette i video su youtube c'era e a mangiare la pizza con lei poi l'hanno anche incontrata e chiaramente amanti che poi del sesso abbiamo parlato nel secondo incontro che è stato dal nel weekend non ricordo se c'era sabato la domenica nel 6 maggio 2011 quindi qualche due mesi dopo nel coso in montagna da me è stata è stata ospite non scrivete cazzate nei commenti perché vi banno quando parli con gli uomini la domanda sulle donne sempre una ebbene sì sì ci sono due risposte o no non me ne sono fatta mai nessuno oppure sì me le sono fatte tutte lasciate in pace non è mai elegante né cosa parlare di queste cose ho parlato per alto al telefono con adesso marito giovanni mi è piaciuto mi ha chiesto ricordo della l'omografia sapevo manco cazzo fosse perché io comunque stavo imparando quel quel settore devo dire che appunto è stata una delle persone interessanti che ho incontrato ce ne sono di più perché perché poi ha raggiunto fama a livello internazionale ce ne sono altre però per rispetto anche direi di fama ultra planetaria ma per rispetto verso le persone che comunque magari loro non frega più un cazzo però per me sono sempre persone care non non si fanno nomi come non si fanno nomi di aziende o di progetti quando so che dall'altra parte cosa conoscendo valentina penso proprio che non gliene frega niente se insomma se racconto questa storia e ripeto è stato un incontro molto interessante ho fatto molte domande come faccio sempre cerco di conoscere le persone a fondo di sentire le loro esperienze e poi di portare quello che apprendo nel nel mio lavoro ecco questa è un po la storia dell'incontro con valentina nappi se avete delle domande specifiche ripeto non le stronzate che ho detto prima se no mi arrabbio anche mettete nei commenti e e cos'altro vi debbo dire niente sono contento di aver fatto questo incontro un abbraccione a tutti non di luce grazie per aver ascoltato fin qui se ti interessano gli argomenti del miglioramento personale scientificamente basato life hacking bio hacking integratori benessere psicologico apprendimento neuroscienze e transpersonalità seguimi in ogni canale digitale che ho ciascuno ha i suoi contenuti gratuiti e unici in particolare su telegram cerca il mio canale zio h con l'h di hotel quattro lettere e zio h e trovi molti audio mini podcast esclusivi visita il sito migliorati.org per trovare i miei social e il mio ricco blog ecnews.net ciao alla prossima grazie per aver guardato il video